Musica Un Marco Cappato ancora a piede libero perché diciamo questo è in corso una disobbedienza civile di cui tu sei protagonista ecco, dici bene che cosa sta succedendo Noi stiamo aiutando pubblicamente le persone che chiedono di andare in Svizzera per ottenere l'aiuto medico alla morte volontaria li aiutiamo a farlo e lo facciamo rendendo conto alle forze dell'ordine, allo Stato italiano ho verbalizzato nella deposizione che ho fatto ai carabinieri due settimane fa non solo ciò che ho già fatto ma quello che ho intenzione in programma di fare nelle prossime settimane, cioè aiutare altre due persone e ritengo che questo sia indispensabile che sia un dovere continuare a fare questo in assenza di buone regole che consentano l'esercizio della libertà e responsabilità anche alla fine della propria vita E' una vera e propria tecnicamente disobbedienza civile anche in linea con la tradizione radicale che ha visto protagonisti radicali contro il proibizionismo anche in questo caso contro il proibizionismo Io mi sono limitato a descrivere ai carabinieri quello che noi facciamo quindi la decisione se ritenere questo un reato o no cioè se ricomprenderlo all'interno del reato di aiuto al suicidio da 5 a 12 anni di carcere sarà una decisione dello Stato Penso che in questo modo noi riusciamo con Mina Welby e con Gustavo Fraticelli almeno ad impedire allo Stato di continuare a girare la testa dall'altra parte rispetto a una realtà che esiste e quindi qualunque saranno poi le decisioni finali in un modo o nell'altro avremo contribuito a fare un passo avanti nella direzione contro l'eutanasia clandestina scusami per l'eutanasia legale Un'ultima cosa, dove ci si può informare nel caso ci ascolti qualcuno che voglia accostarvi e diciamo avvarersi di questo servizio che state fornendo? C'è un sito internet che si chiama sos-eutanasia.it c'è anche la mia mail m.k-radicali.it da lì si può contattare naturalmente molte persone magari hanno bisogno di altre risposte saranno poi i centri svizzeri sulla base della legge svizzera a vedere se effettivamente la persona ha diritto o invece è una persona che... Comunque con la Svizzera vi interfacciate, non con altro posto? La Svizzera è l'unico paese che lo consente per non residenti per cui il Belgio e l'Olanda non lo consentono e quindi è chiaro che io non ho né le competenze né la possibilità di verificare ciascuna richiesta se la persona è davvero malata, se la persona davvero non è curabile o se la persona non può avere altre risposte eccetera quindi sono tutte richieste che poi vengono indirezzate alla Svizzera sulla base delle regole che lì ci sono Grazie Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Cuscioni Grazie a tutti Grazie a tutti